Blogosfera e Style in Fashion è alla Milano Fashion Week, siamo in compagnia di Massimo Ardizione. Ciao Massimo e benvenuto. Ciao a tutti e grazie di essere qui. Massimo, siamo alla presentazione della tua prima linea che porta il tuo nome. Ci puoi raccontare un po' qual è il mood e l'ispirazione della tua collezione? La mia collezione si ispira al Mediterraneo. È una collezione che costa in tre temi cromatici principali. Uno che viene denominato i neri mediterranei, ispirato ai ricci di mare, quindi prende i colori del bianco-nero con la punta di corallo. Un'altra che sono le sabbie mediterranei, le nostre spiagge del sud che sono praticamente i beige con i bianchi con una polvere d'oro sopra. E la terza linea sono i tramonti mediterranei, ispirati quindi alla Bucanville con l'inserimento dell'arancio nei toni più chiari e più scuri. Qual è la donna ideale a tuo avviso che può vestire Massimo Ardizione? Ma è una donna abbastanza di tutti i giorni, abbastanza contemporanea, con lei che comunque si ama e si vuole bene, quindi che cerca di apparire il meno possibile ma di essere se stessa all'interno dell'abito. Cioè quindi l'abito non deve creare personalità ma è lei che è completa comunque insieme all'abito, è un tutt'uno, è una fusione con l'abito. Grazie Massimo. Grazie a voi, ciao. Ciao.